Ottenere la definizione del reato di omicidio stradale. È l'obiettivo della proposta di legge popolare cui stanno lavorando l'associazione Lorenzo Guarnieri, fondata dai genitori del 17enne ucciso la notte del primo giugno scorso a Firenze da uno scooter guidato da un uomo risultato positivo ai controlli ad alcol e droga, e Palazzo Vecchio. Lo ha annunciato il sindaco Matteo Renzi, assieme al vicepresidente dell'associazione Stefano Guarnieri, presentando in Palazzo Vecchio l'avvio dei lavori per mettere a punto un piano strategico di sicurezza stradale nel capoluogo toscano rispetto al profilo del consumo di alcolici. Se una persona ubriaca o drogata si mette alla guida ed uccide qualcuno, è ingiusto che si possa far finta di nulla, detto Renzi, e che possa tornare a casa come se non fosse accaduto niente. Per questo bisogna far sì che il reato previsto dal codice per questi casi sia aggravato. Sono pronto a chiedere un incontro con il presidente dell'Anci perché si discuta di questo, ha aggiunto il sindaco, è una grande scommessa sociale, civile ed anche economica. Per gli incidenti stradali, infatti, si spende ogni anno più di 20 miliardi. Guarnieri ha spiegato che il reato di omicidio stradale è già presente in altri paesi e che l'associazione sta scrivendo il testo della proposta di legge popolare che definisca questo reato. Terminata l'attuale fase, poi partirà la raccolta di 50.000 firme.